salve benvenuti a media show salve abbiamo il nuovo attrezzo eh sarebbe questo è un monofattino senza rotte da camera è pratico ma è sicuro è anche reversibile sinistro testo e il costo quanti sia portanto per le prime 10 diamante 1700 euro radica di nocce pieghe regole e ha tante posizioni ma è una specie di palestra esatto usare anche con me prezzo 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 ricordo alle prime 10 telefonate solo 1700 euro arrivederci grazie grazie